buonasera a tutti siamo in diretta col dottor pierluigi la tua da medico psicologo psicoterapeuta ciao pierluigi buonasera e grazie per essere noi ciao daniel ciao a tutti quanti buona serata questa diretta resta registrata condividetela con il link che mettiamo nei commenti perché le condivisioni come sempre sono fondamentali per diffondere queste importanti informazioni e per essere sempre aggiornati sulla nostra libera informazione indipendente potete iscrivervi al canale youtube meglio di ieri cliccando sul tasto iscriviti attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche mettete il like anche a questo video allora pierluigi che cos'è la psicologia transpersonale allora intanto io dico che la psicologia transpersonale diciamo storicamente è una psicologia che nata intorno agli anni 60 70 sull'onda dei movimenti del potenziale umano sull'onda dei movimenti trasformativi che hanno poi portato a 68 agli anni 70 a tutte le trasformazioni sugli stati di coscienza e sull'esperienza interiore e viene chiamata la cosiddetta quarta forza della della psicologia dopo il comportamentismo dopo la psicoanalisi dopo la psicologia umanistica la psicologia transpersonale appunto da una parte è arrivata dopo è arrivata dopo perché rappresenta un'evoluzione diciamo così della psicologia che si occupa da una parte delle qualità più elevate dell'essere umano delle potenzialità delle risorse e di conseguenza arriva a lambire tutta la dimensione spirituale la dimensione della vera essenza della vera natura dell'essere umano e quindi degli stati di coscienza dell'esperienza interiore e di tutto ciò che riguarda appunto l'aspetto più profondo più essenziale dell'essere umano quindi non nega il lavorare col comportamento per esempio non nega lavorare con i problemi ma li vede all'interno di uno sguardo più ampio nel quale le persone possono attingere per il quale nel quale possono attingere alle risorse alle potenzialità per esempio se io facciamo un esempio se io sono di fronte a un adolescente che fa il bullo di quegli adolescenti di periferia che sono violenti contro i più deboli eccetera se io uno sguardo psicologico classico io potrei o risalire cercare delle cause nell'infanzia nel rapporto con i genitori e cercare di risolvergli di affrontare quelle problematiche oppure potrei cercare il livello di comportamento di insegnargli a moderare i comportamenti a creare delle condizioni educative per le quali lui cambia il comportamento oppure in un'ottica di psicologia personale io posso riconoscere lui un archetipo cosa vuol dire un archetipo un archetipo è potremmo dire un elemento che ci dà un senso di evoluzione cioè un principio ordinatore se io riconosco nel ragazzo adolescente che fa il bullo il guerriero che non riesce ad esprimersi il guerriero arrabbiato il guerriero impotente il guerriero che si sente che sente di avere dentro una forza ma che questa forza non è in grado di esprimerla io posso aiutarlo a riconoscere l'eroe che c'è lui il guerriero che c'è in lui io posso dargli dei messaggi per i quali gli dico guarda che il tuo viaggio che è in questo momento tu ti senti arrabbiato con il mondo ti senti che hai bisogno di essere violento per sentirti forte ma dentro di te c'è una potenzialità infinita che tende ad andare verso la piena realizzazione di sé tende a diventare il guerriero impeccabile tende a diventare il guerriero che vince la guerra perché è andato oltre la guerra tende a c'è quello slancio a l'affermazione di te c'è quello slancio alla al coraggio c'è quello slancio no verso la responsabilità e allora accompagni la persona in questo viaggio che va molto oltre la sua condizione del momento perché gli consente di espandere la coscienza e di riconoscere che dentro di sé c'è un seme che vuole diventare una pianta e quel seme è il guerriero questo è un esempio per dare un quadro di quello che è il il contesto nel quale la psicologia transpersonale opera e lo sguardo che ha sul mondo in questi ultimi mesi sono state sempre di più le persone che hanno intrapreso e stanno comunque intraprendendo il cammino del risveglio ma si può darsi non lo so esattamente se in questi ultimi mesi certamente quello che perché ti avevo proposto di parlare di risvegliarsi perché quello che io vedo è nonostante ma se uno potesse se uno dice tra la pandemia la guerra e le crisi varie e inquinamento eccetera uno potrebbe vedere solo delle situazioni no di di stagio di negatività invece a mio avviso l'essere umano sta andando verso il risveglio cioè l'essere umano ha di tutto a disposizione per risvegliarsi pensa com'è cambiato in questi 50 anni basta fare un click su internet e abbiamo accesso a tutta la conoscenza dell'umanità a tutte le tradizioni antiche tradizioni spirituali basta iscriversi e ci sono appunto ci sono i canali come il tuo ci sono i seminari ci sono libri di tutti i tipi ci sono c'è la possibilità di fare esperienze di una ricchezza esperienza trasformative di un'enorme ricchezza in ogni momento della nostra giornata questo è questo è un aspetto poi non abbiamo comunque realizzato una condizione di nonostante continuiamo lamentarci ma siamo in una condizione infinitamente migliore di quando mai non è mai stata una situazione così favorevole per l'essere umano siamo in grado quindi e abbiamo a disposizione tutte le tecnologie per padroneggiare l'esperienza interiore per accorgerci quindi che in realtà la nostra perché mi chiedevi sulla psicologia personale noi siamo in grado di accorgerci che in realtà siamo svegli siamo esseri risvegliati che dormono c'è che spesso dormono si addormentano ma il fatto che spesso si addormentano non vuol dire che siamo dormienti è esattamente il contrario se ci possiamo addormentare perché siamo svegli è un cambio di sguardo se è vero che la nostra la vita la nostra società la nostra la società in genere è una società che tende a ipnotizzarti che tende a creare un pensiero unico che tende a creare una coscienza del consenso ma proprio perché c'è questa tendenza vuol dire che noi siamo svegli e allora però cosa succede le varie psicologie le varie educazioni vari sistemi informativi e via di seguito la cultura difficilmente ti tratta o parla di dell'essere umano come se fosse risvegliato il risveglio un mito c'è 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 il buddha che si era risvegliato piuttosto che no i santi ma se noi incominciassimo a guardare l'essere umano come un essere risvegliato cambierebbe completamente la nostra psicologia il nostro atteggiamento nei confronti della vita e questo non è un'illusione non è che diciamo la scusa non è che diciamo sì vabbè ma in realtà siamo nella valle di lacrime guarda in giro come siamo messi quali risvegliati ma invece è esattamente il contrario proprio perché cadiamo spesso nell'abitudine cadiamo spesso nel sonno cadiamo spesso nell'attaccamento alle nostre più piccole alle piccolezze dell'essere umano ma proprio perché ci cadiamo vuole dire che da dove cadiamo da dove ci addormenti come ci mentiamo se noi guardassimo a siamo svegli che dormono c'è la famosa frase di telar de chardin che dice no di essere non siamo esseri umani che vivono un'esperienza spirituale ma siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana è proprio un cambio di sguardo di paradigma se noi incominciassimo a riconoscerci come esseri risvegliati che dormono il viaggio serve completamente diverso sarebbe accorgerci come facciamo ad addormentarci accorgerci come rinunciamo alla nostra vera natura accorgerci come trascuriamo le nostre qualità invece di affrontare i problemi se noi ci vediamo come persone che hanno i problemi affrontare il problema vuole dire nutrirlo vuole dire dagli energia perché non vedi che in realtà il problema è già risolto il problema si dissolve quando tu fai la cosa giusta con lo tuo il giusto sguardo di fronte a un problema questo si risolve cioè si dissolve prova a pensare se noi proviamo a pensare provate a pensare a ogni volta che noi risolviamo un problema che usciamo da una situazione difficile quando guardiamo indietro cosa vediamo ma guarda era così facile era così facile perché stavamo dormendo e ci siamo svegliati se siamo dentro nel luogo nello stato di coscienza che crea il problema viviamo nel problema e se cerchiamo di risolveremo non risolveremo mai ma solo nutriremo questo stato di coscienza se ci svegliamo cioè se ci accorgiamo che in realtà il problema è solo una manifestazione della nostra distanza da noi stessi del nostro dormire ci svegliamo il problema si risolve quindi questo uno sguardo cioè l'attività transpersonale in genere da un po questo sguardo quindi riprende in un'ottica perché è importante a mio avviso perché con una un'epistemologia si dice quindi con una modalità di conoscere con delle mappe dei modelli attuali che nascono dal percorso anche della della scienza psicologica recupera e offre recupera quel linguaggio quelle tecnologie delle tradizioni antiche e le riporta qui e d'ora e le riporta qui oggi nel nostro nel nostro mondo attuale appunto offrendo c'è la possibilità di vederci come persone che si possono risvegliare beh diciamo che anche negli ultimi due anni c'è stata l'opportunità di svegliarsi in un momento di difficoltà anche di saper cogliere le opportunità cioè chi ha saputo cambiare si è voluto e anche perché tu hai parlato di un nuovo paradigma c'è il il cambio di paradigma nuovo paradigma oggi è possibile ed è a disposizione un po di tutti basta volerlo esatto esatto c'è allora c'è sia dal punto di di vista culturale questo nuovo paradigma sia dal punto di vista sociale come dicevamo prima di comunicazione di informazione di accesso alle informazioni sia dal punto di vista della delle conoscenze che abbiamo a disposizione ma giustamente l'accento sulla responsabilità basta l'hai detto su basta volerlo basta volerlo ma come fai a volerlo ti devi accorgere c'è quella frase credo che sia attribuita a rumi o comunque per uscire dalla trappola devi prima riconoscere la trappola se non ti accorgi che credi di dormire ma sei sveglio se non ti accorgi che a disposizione tutto ormai per quello che ci siamo pronti c'è il paradigma c'è il livello evolutivo dell'essere umano c'è ci sono gli strumenti c'è la conoscenza non manca nulla solo accorgersene solo grazie accorgi ce ne pensi e prendici la responsabilità di questo però capisci uno sguardo se si incomincia a parlarne se si comincia a dire guarda che siamo risvegliati se io comincio guardati negli occhi e vedere il saggio che c'è in te pensa pensa a namaste il saluto degli indiani io riconosco la divinità che c'è in te ma non è solo un abitudine un modo di dire se io davvero se noi davvero ci abituassimo a guardarci negli occhi a riconoscere la divinità che c'è nell'altro cioè il risvegliato che c'è nell'altro il nostro mondo cambierebbe e cambia anche la fenomenologia la nomenclatura cambia anche proprio i termini con i quali parliamo di solito parliamo di obiettivo di perché di controllo di affrontare di combattere combattere la pandemia combattere tutto combattere ma cosa è combattere il cancro ma cosa vuoi combattere il cancro e la pandemia guarda piuttosto la malattia il dolore come un processo trasformativo che crea opportunità e che tu attraverso un giusto atteggiamento puoi affrontare o risolvere è proprio un cambio di sguardo ma soprattutto come ti dicevo c'è tu è tutto pronto come dire uno potrebbe dire guarda quanti semi che ha a disposizione ma se siamo in inverno e se sei sul cemento quei semi andrebbero sprecati invece a mio avviso oggi abbiamo i semi abbiamo il terreno c'è il clima propizio c'è tutto quanto per seminari semi del risveglio bisognerebbe dirlo continuamente e costruire una perché io sto parlando ultimamente di psicologia della liberazione o psicologia del risveglio dovremmo costruire una psicologia del risveglio nessuno ci parla di questo perché le persone sono così in genere le persone comuni sono abbastanza restie no andare dallo psicologo oppure ci vanno se sono costrette se stanno male vabbè poi ci sono anche quelli ad gli addict della psicoterapia ma in genere si tende a credere che lo psico dallo psicologo vai per risolvere i problemi se sei costretto perché dei problemi perché la psicologia lavora sui problemi fa le diagnosi anzi adesso è stata messa sotto il cappello della medicina la psicologia quindi fare diagnosi e dare la cura ma questo lo sguardo infinitamente limitato non dico che non si debba fare se ci sono dei problemi ormai cronicizzati e gravi ma com'è che non c'è una psicologia del risveglio una psicologia delle risorse una psicologia che si dirige agli uomini agli eroi in viaggio alle donne agli uomini che vogliono svegliarsi una una terminologia invece di parlare di combattere parlare che ne so di dialogo di condividere di accogliere compassionevolmente il dolore invece di parlare di obiettivi che devi raggiungere chissà che cosa parlare di presenza parlare di consapevolezza no parlare di scambio interconnessione c'è proprio da costruire a mio avviso un linguaggio e una psicologia adatta al fatto che l'essere umano è pronto per il risveglio la consapevolezza cioè chi ha preso consapevolezza anche si si distingue cioè la consapevolezza il ruolo della consapevolezza è fondamentale il fatto di di essere una persona consapevole sai le noi siamo abituati ad usare le parole si fa presto a dirle no si fa presto a dire consapevolezza si fa presto a dire amore ma sono è un universo usare il termine consapevolezza è scomodare un archetico è più che scomodare una cosa potentissima quindi certo quanti si crede di essere consapevole ma il viaggio della consapevolezza è infinito tradotto ai minimi termini possiamo dire che consapevolezza è la capacità di osservarsi osservare quindi di vedersi mentre fai le cose ok questa è diciamo così la precondizione è come dire apri gli occhi perché se li hai chiusi non sai non vedi se li apri si crea un altro mondo quindi la consapevolezza è l'equivalente di aprire gli occhi poi se ho aperto gli occhi non è perché ho aperto gli occhi che necessariamente agiscono in modo migliore è una precondizione quindi il mondo dei dormienti è il mondo dei risvegliati il mondo di chi non è consapevole il mondo di chi è consapevole ma il mondo della consapevolezza anche questo è un universo ha un'infinità di gradazioni a un'infinità di livelli evolutivi per questo che il viaggio non è mai finito non è che chi è più consapevole è arrivato da qualche parte ha fatto semplicemente uno step ma è un altro viaggio infinitamente complesso cosa della consapevolezza non finiamo mai di comprendere cosa significa davvero vedere quello che stiamo facendo in fondo siamo dei piccoli cioè consapevolezza capito consapevolezza di che cosa consapevolezza di essere meno di un granello di un granello di un granello di un granello all'interno di un universo nemmeno dicibile quindi se noi parliamo di consapevolezza dovremmo anche contestualizzarla sempre consapevolezza dove quando chi di che cosa allora ridurre il contesto in questo momento per esempio io potrei essere un po più consapevole di come sto parlando magari ascoltando un po meglio vedere se c'è questo tendenza entusiastica a volere affermare le mie convinzioni e allora no un maggiore ascolto magari un parlare più lentamente un sentirmi parlare un guardare te come rispondi qual è la tua prossemica se sei attento se ti sei a noi tutto questo favorisce la consapevolezza ma una piccola consapevolezza di un contesto di come sto parlando in questo momento di chi sta parlando in questo momento sta parlando il medico la psicoterapeuta sta parlando quello che vuole essere ascoltato sta parlando quello che vuole avere ragione chi dentro di me in questo momento sta parlando e chi dentro di te sta ascoltando quindi i livelli di consapevolezza sono veramente infiniti schiudono porte una dopo l'altra parte ti parlavo di archetipi ma i personaggi che abbiamo dentro qual è il personaggio che sta parlando in questo momento essere consapevole di che cosa chi sta parlando e dove vuole andare quindi certo tu dici la consapevolezza certo però la consapevolezza è un viaggio infinito non è un'idea che ci riga sa favorezza è uno che magari medita venti minuti due volte al giorno o che cammina attento a guardare cosa fa è un viaggio immenso infinito però dobbiamo parlare dobbiamo costruire un linguaggio adeguato a essere consapevoli perché magari noi siamo consapevolezza abbiamo degli inside di consapevolezza e poi cosa ne facciamo usiamo un linguaggio che è il linguaggio dei media linguaggio della cultura ordinaria la consapevolezza con termini come combattere controllo obiettivo obiettivo risultati non c'entra sono la consapevolezza è un qui ed ora fuori dallo spazio tempo gli obiettivi la linearità il tempo i risultati il controllo è lineare e quindi il linguaggio lineare può essere funzionale per costruire i ponti andare sulla luna pagare le bollette certo che sì ma non per risvegliarci non per il mondo della consapevolezza ci vuole un altro linguaggio funzionale al qui ed ora funzionale alla all'interconnessione di ogni cosa per quello che io parlo mi sono permesso di parlare di biotrans energetica trans il termine trans ci dice perché per esempio adesso cosa sta succedendo tra me e te c'è una relazione tu ascolti io parlo e i nostri ascoltatori stanno ascoltando ma questa esperienza non è solo duale non è solo io sto parlando e tu stai ascoltando c'è un campo nel quale questo sta avvenendo se noi ci permettiamo di stare un attimo in silenzio diventa evidente io e te e anche i nostri ascoltatori a casa siamo in un campo e questo campo agisce sempre qui quindi la relazione non è due ma io te e il campo perché quello che io dico e quello che tu comprendi e i nostri ascoltatori comprenno dipende dal campo nel quale sono questo è il trans io te e il campo e tre non è due siamo sempre in trans io dico c'è tutto interconnesso ma questa interconnessione e io te in un campo per esempio nel modesto contributo non creare delle una nuova terminologia come per esempio il trans ci aiuta a vivere in una dimensione mirata al risveglio mirata alla interconnessione tutte le cose mirata al fluire oltre il tempo invece che nella dualità del tempo ma vediamo che c'era una domanda o sbaglio è comparsa una domanda o un commento lara scrive comunque io credo che il danno psicologico del risveglio vista la violenza mediatica e sociale sia stata una coltellata alla schiena era questo commento è una frase un po criptica cerco di comprenderla il danno psicologico del risveglio beh tu dai per scontato che il risveglio procura un danno psicologico io non direi il risveglio semmai ti fa vedere gli eventuali danni che hai avuto però non è un danno di per sé il risveglio una grazia ti fa accorgere di quello che succede potrebbe essere che ti fa accorgere della violenza mediatica che ti fa accorgere che qualcuno ti ha coltellato la schiena ma questo accorgerti vuole dire anche che tu ti accorgi che in realtà tu non sei quella che è stata coltellata se non ti identifichi con quello ti puoi accorgere anche che questo è successo a te sì ma che tu non l'hai fatto tu se tu per esempio la consapevolezza potrebbe fare così se io ricevo violenza questa violenza non mi può far male se io sono sveglio perché non l'ho fatta io l'hai fatta tu cioè e chi ha commesso la violenza che si è fatto male non chi la subisce perché noi quando ce ne andremo ci porteremo via solo gli atti che abbiamo compiuto non quelle che abbiamo ricevuto quindi risveglio vuol dire ok io ho subito violenza ma questa violenza ha fatto male che l'ha fatta non a me a meno che io che io c'è che una parte di me la bambina ferita non voglia stare a rimuginare sul dolore e sulle sofferenze che ho subito ma questo non è risveglio questo non è consapevolezza questo rimanere aggrappati a un passato se io davvero mi risveglio provo il dolore è certo che lo provarlo vissuto ma lo purifico poco a poco riconoscendo che non mi appartiene ma che è frutto di chi l'ha compiuto il silenzio che valore ha il silenzio io restarei sempre in silenzio una volta un mio allievo durante un feedback ha detto una frase che ancora adesso cito dopo tantissimi anni ha detto le uniche parole che meritano di essere dette sono quelle che suggeriscono il silenzio eppure anch'io questo momento parlo parlo e invece dovremmo ogni parola in un mondo ogni parola messa lì fa succedere delle cose dentro di noi e quindi dovremmo dare più spazio al silenzio io personalmente intimamente do moltissimo spazio al silenzio sto molto spesso in silenzio a volte anche senza la musica che mi riempie troppo perché quando stiamo in silenzio succedono talmente tante cose dentro non solo ma se tu pensi la malattia era il rumore degli organi quando c'è il silenzio degli organi sei senza in salute quindi rimanere in silenzio permetterci il silenzio vuole dire entrare in un mondo in quel mondo transpersonale di cui parlavamo prima all'inizio quando mi hai chiesto cos'è la psicologia transpersonale ti avrei detto la psicologia transpersonale incomincia 30 secondi dopo che tu stai in silenzio se noi ci permettessimo il silenzio entreremmo in uno spazio dove sarebbe chiarissimo che cos'è il transpersonale se vuoi anche facciamo una piccola pratica allora facciamo così io chiedo di chiudere gli occhi non tanto perché se chiudiamo gli occhi ci centriamo un po più su dentro quindi io vi invito chiudiamo gli occhi un attimo e mi chiedevi daniel mi chiedevi cos'è il silenzio ritorniamo discorso di prima del risveglio il silenzio se noi gli diamo un'opportunità il silenzio è quello che rimane quando lo smettiamo di fare altro accorgiti che sei nel silenzio e che in questo silenzio la tua mente comincia a far rumore e non deve scacciare pensieri o fare chissà che se riusciamo ad accorgerci che tutto il rumore succede nel silenzio e noi scegliamo il silenzio da dove nasce il rumore scompariamo rinunciamo a dare attenzione al rumore e diamo invece attenzione al luogo da dove nasce quel pensiero che hai adesso con la sensazione con l'emozione quel giudizio adesso sono davvero in silenzio anch'io e proviamo a senti dare un'opportunità io essere umano sulla via del risveglio posso accorgermi che la mia vera natura è silenzio e non c'è nulla da temere in questo ma è una grazia e questo silenzio ci schiude via via sempre di più porte che mi portano alla profondità dell'essere il silenzio è una medicina che mi pervade e agisce se io le do l'opportunità di farlo il silenzio è un campo che ci unisce ci fa sentire uno anche se distanti e divisi da uno schermo ci vediamo i personaggi no che saltano fuori pensieri ci portano chi sto pensando chi sta andando allontanandosi dal silenzio chi non se lo permette scegli di lasciarlo lì mi prego accomodi stai qui sul divano vicino a me io scelgo il silenzio e tu e questo silenzio è pieno di forza ricco di risorse è una medicina e posso anche aprire gli occhi e tutto succede non c'è buon motivo perché io mi dimentichi del silenzio anche quando apri gli occhi io parlo di prima e di seconda attenzione nella prima attenzione riapriamo gli occhi ci parliamo ci guardiamo con la seconda attenzione io sto attenta sto attento al silenzio da dove nasce ogni parola se le parole nascono dal silenzio hanno potere l'altro lo sente se nascono dal rumore sono solo rumore emanuela ti leggo questo commento scrive ma magari la botta di violenza fosse servita a risvegliare tutti i dormienti invece sembrano ancora tutti anestetizzati nonostante le oscenità subite sì sì io capisco cioè io capisco questo fa parte degli agguati capisci fa parte degli agguati è facile guardare il mondo e vedere e vedere tutte le piccolezze dell'umanità ma proprio per questo cioè quando noi vediamo qualcuno e ne vediamo tanti dai ma chiunque cioè vediamo continuamente atti atti egoistici atti nella migliore delle ipotesi egoistici nella peggiore ovviamente manipolatori violenti eccetera ma arrabbiare c'è un agguato sentirci attaccati offesi delusi da questo un agguato siamo tutti in viaggio ognuno sta facendo il suo cammino e sta cercando di arrivare dove può non hai mai troviamo a pensarci quando noi riusciamo a sentire amore quando non riusciamo a sentire compassione quando riusciamo a sentire la grazia quando noi siamo riusciamo ad essere felici perché nella felicità dell'altro non ci sentiamo bene sono i momenti di grazia invece prova gelosia invidia rabbia e perché sta male allora dovrebbe avere solo la compassione dobbiamo dare compassione a queste persone stanno facendo quello che possono e sono dei poveretti certo al mondo ci sono tanti come li chiamava rai piccoli uomini piccole donne in cammino se tu lo vedi dagli la tua compassione fai qualche cosa crea le condizioni per il risveglio ma lamentarsi perché la gente dorme non posso dare nessuna parte o arrabbiarsi peggio non posso dare nessuna parte se tu lo vedi fai ma fai accogliendo con compassione la piccolezza delle persone giusto la ra scrive sì sì brava però c'è la testa confusa ma ci sei tu che gli stai dando potere chi è fatti questa domanda in genere ecco se tu vai da uno psicologo un vero psicologo ti dice ma perché sei confuso dobbiamo capire perché sei confuso le cause della confusione questo non serve a nulla nel mio modesto parere ma chiediti chi è confusa chi dentro di te è confusa chi pensa continuamente e non sceglie invece il silenzio e vuole non accorgersi che questo pensiero nasce da una dimensione silenziosa hai tutto per farlo se non l'abitudine certo l'abitudine la mente la scimmia no che continua a saltare certo ma tu puoi vedere la scimmia e scegliere invece di stare comodamente sotto l'albero prenderti l'ombra è possibile è possibile se tu invece pensi che no tutti quanti siamo persi nella mente il giudizio continuare ad esserlo oggi questo discorso di oggi vuole essere discorso di di sfida di di sveglia guarda che non è vero questa è solo una parte di te questa è una piccola attria c'è come dire nel nel tuo teatro personale questa è un'attrice è quella che si prende il palco scenico attiva gli altri attori ho messo nei commenti anche l'intervista che abbiamo fatto qualche mese fa sulla bio trans energetica e invito tutti a guardarlo perché è sempre attuale anche se di qualche mese fa e ricorda anche il tuo libro proprio una metodologia innovativa per padroneggiare il viaggio dell'anima verso se stesse ne hai scritti diversi e oltre a questo ricordo anche meditazioni sciamani che abbiamo già parlato anche la volta scorsa ho messo anche il link del eh anche qua del della psicologia della liberazione di cui avevo parlato anche qua in un'intervista recente quindi invito tutte ad andarle a guardare perché sono sempre attuali e utili molte grazie sempre un piacere essere con te e con voi grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato io invito tutte le persone a diffondere e condividere questa diretta perché con la condivisione possiamo riuscire ad arrivare a più persone possibili ed è anche un modo per dargli delle informazioni importanti che ha dato questa sera dottor Pierluigi Lattuola grazie ancora Pierluigi per essere stato con noi alla prossima buona serata ciao ciao